Applausi Ma guardi signora, lei se lascia due posti ci fanno... Una di sprechi Sì, ma devo ritirizzare Signora, ecco, lei è perfetta, si è basso Ha diritto anche a farne una nota, se vuoi Ragazzi, non vi muovete Che peso 120 kg, sto in bidet Eh? Prego qualcosa No, no Va bene, va bene Ok La 71esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia presenta fuori concorso Nymphomaniac Volume 2 Long version per la testata di Last One Year Sono presenti in sala gli interpreti Oma Thurman Salvatore Spelman Scalpour Grazie a tutti.